La mattina ho iniziato la dieta del microbiota, quindi qualcuno dice ma perché in questo momento fai la dieta, cosa serve? Intanto è nata dal fatto che ho fatto delle analisi, l'analisi del microbiota intestinale che è un ecosistema che alberga nel nostro intestino, intestino fatto di batteri, miceti, insomma soprattutto batteri. Ho scoperto questa cosa anni fa, di cui parlo anche nel libro sull'amor proprio, dal dottor Gasbarrini che lavora al Gemelli di Roma e poi leggendo questo libro di Michael Mosley, La dieta del microbioma. Quindi è nato da mio interesse. Poi il reumatologo, siccome avevo diversi dolori, fastidi alle gambe, alla schiena, un po' per l'ernia, un po' per insomma una psoriasi, mi ha detto di fare l'esame del microbiota. Io l'avevo già prenotato da questa azienda Natgen, di un amico insomma a Pisa, a cui ho mandato questo campione e il risultato è stato abbastanza sconcertante, soprattutto per me, che è vero che è solo da 2-3 anni, che però seguo comunque un'alimentazione abbastanza equilibrata. Ma perché? Perché il risultato per me è stato sconcertante, nel senso che non è stato così positivo come mi aspettavo. Cioè c'è una piccola disbiosi nel mio intestino. Disbiosi vuol dire disequilibrio, fra le varie specie batteriche. Ci sono dei batteri che secondo soprattutto Michael Mosley sono batteri identificati buoni e dei batteri identificati cattivi. Allora bisogna, questa cosa quando l'ho scoperta veramente mi ha cambiato modo di vedere l'alimentazione ed è nato anche da lì l'amor proprio e poi il motivo per cui ho deciso di scrivere quel libro. Perché molte persone non sanno che questi batteri buoni o cattivi vengono alimentati da quello che noi portiamo dentro il nostro corpo. Cioè non è che vivono di vita propria, cioè la loro forza e il loro numero, il loro quantitativo aumenta o diminuisce in base a quello che noi mangiamo. Quindi la disbiosi è un disequilibrio fra specie, fra virgolette, buone e specie cattive. Non è che ci vogliono solo le specie buone, ci vuole un equilibrio come in tutte le cose. Quindi quando non c'è questo equilibrio cosa comporta? Perché è collegato al tema di questa sera dell'umore. Perché quando c'è disequilibrio la sintesi della serotonina, che tante volte ho nominato come essere il neurotrasmettitore responsabile del nostro umore, è quel neurotrasmettitore che ci fa vedere le cose con più lucidità. In questo momento alzi la mano a chi serve un po' di lucidità e quindi serve parecchio. E soprattutto la serotonina, dagli studi di Carol Hart, che è la principale studiosa, insomma, che ha pubblicato questo libro sulla serotonina. E la serotonina è un po' come un maestro d'orchestra. Cioè la bellezza di questo neurotrasmettitore, che è molto affascinante, io veramente mi sono innamorato della serotonina, ecco, invece dire di chi sono sicuramente innamorato, ecco questa è la serotonina. E la serotonina ha questa capacità di essere un maestro d'orchestra, una maestra in questo caso d'orchestra, di tutti gli altri neurotrasmettitori e anche degli ormoni, perché va un po' a equilibrare il nostro modo di percepire il mondo. Quindi in un momento in cui la percezione, ditemi voi se non è così, la percezione di quello che accade è molto negativa, molto ristretta, molto focalizzata sul negativo, perché abbiamo mille paure, giustamente abbiamo paura anche del futuro e di quello che potrebbe accadere anche nel presente. Quindi questo senso di incertezza non ci fa vedere le cose in modo ampio, anzi le restringe e soprattutto in modo lucido. Mentre l'abbondanza di serotonina, quindi la serotonina non in dose esagerate, ma in giusto equilibrio, permette di essere anche in equilibrio emotivo. Quindi quante persone in questo momento conoscete che vivono questo momento con ansia, con preoccupazione, qualcuno scriveva attacchi di panico. Perché? Perché il nostro intestino non riesce a produrre nella giusta dose la serotonina di cui abbiamo bisogno. E la serotonina ha questa funzione di farci focalizzare sulle cose davvero importanti, proprio, soprattutto di fronte a un pericolo costante, non un pericolo, a qualcosa che si è identificato come non essere qualcosa di cui abbiamo il controllo. Quindi la capacità della serotonina, cioè la serotonina ha la capacità di farci riconoscere quello di cui abbiamo il controllo e quello di cui non abbiamo il controllo. Cioè non è che non ci fa vedere i pericoli, attenzione. Ma la serotonina di fronte a qualcosa che occupa i nostri pensieri, le nostre energie a lungo tempo, per lungo tempo, ci fa distogliere l'attenzione e l'energia, le fa distribuire su cose più importanti di cui possiamo avere il controllo. E questo è importante adesso. Quante persone spesso non riescono a cambiare, a gestire i propri pensieri? Tante volte leggo di questo. Qualcuno dice, allora iniezioni di serotonina per tutti, adesso che si parla del vaccino che sta per arrivare, la serotonina non può essere assunta dall'esterno. La serotonina, e secondo me è anche giusto così, può essere prodotta solo dal nostro organismo. Certo, alla base c'è un aminoacido, quindi che deve essere assunto dal cibo, che si chiama triptofano. L'aminoacido tu pensi, allora vabbè, mi imbottisco di cimi proteici. Come spiego nel libro e anche nel videocorso, risorse interiori, non è così lineare il meccanismo. Ci vuole un equilibrio dell'intestino, dei batteri del nostro intestino. Quindi cosa vuol dire? Che se c'è troppo stress non gestito bene, se c'è troppo cortisolo, se ci sono dei picchi di glicemia, tasso di glucosa nel sangue, se c'è una vita troppo sedentaria, pensa che la vita, l'esercizio fisico facilita la differenziazione delle specie batteriche. Quindi fa sì, favorisce il fatto che non ci sia solo una specie predominante, ma che ci sia una varietà di specie. È nella varietà che si crea anche questo equilibrio. Perché se ce n'è solo una, o principalmente una, è ovvio che non ci può essere più varietà e soprattutto non ci può essere più equilibrio. Non so se mi seguite fin qua. Quindi dove si trova la serotonina? Qualcuno chiede... Ecco, si produce nel nostro organismo a partire da un aminoacido, quindi riprendo quello che stavo dicendo. Non basta l'aminoacido perché questo aminoacido può diventare serotonina attraverso alcuni processi. Uno fondamentale, che è quello che riguarda il nostro intestino, imbattere il nostro intestino, è che ci sia un equilibrio nel nostro intestino. Quindi, tornando all'esame, il risultato che ho avuto, da cui poi ho iniziato a seguire questa dieta, il risultato mi diceva che c'era una piccola disbiosi intestinale. Io mi sono detto, ma come? Anche i miei familiari, ma come? Con tutta la verdura che ti mangi, con tutta l'attenzione che hai all'alimentazione, ma quell'esame non ti dà la radiografia, la fotografia, e se Sara è ancora collegata, confermami se è così. Non ti dà la radiografia, la fotografia di quello che è adesso, perché io effettivamente negli ultimi due o tre anni ho iniziato ad avere un'alimentazione più ricca di fibre, equilibrata, ho ripreso a fare esercizio fisico, perché non è solo l'alimentazione, è anche una serie di altre cose. Per esempio, io mi sono sempre occupato di buon umore, da diverso tempo, però non basta soltanto la risata al buon umore, anche perché se poi non porto dentro il cibo che serve per produrre buon umore, allora è ancora più faticoso e quindi diventa magari uno sforzo, ok? La radiografia, la fotografia che ho avuto è del mio microbiota da quando sono nato. Microbiota si forma negli esseri umani nei primi sette anni di vita, quindi è molto importante l'alimentazione nei primi sette anni di vita. Poi è vero che si può modificare, migliorare, effettivamente la dieta che sto facendo è per aumentare alcune specie batteriche e per diminuire altre che mi hanno creato un'infiammazione. Infiammazione che vuol dire un'alterazione del mio sistema immunitario, che porto poi a malattie autoimmuni, porta una malattia che ho, che adesso non mi va di dire, comunque che porta ad esempio infiammazione della colonna vertebrale, porta altre malattie che sono note come anche la fibromalgia, insomma le malattie autoimmuni come anche la celiachia, cioè l'infiammazione, questo non lo dico io, lo dicono tutte le ricerche scientifiche degli ultimi 10-15 anni e l'infiammazione, cioè vuol dire che il sistema immunitario è attivo su tutto il corpo, va a abbassare poi invece la specificità del sistema immunitario quando serve e soprattutto crea una sorta di guerra interna, guerra intestina in questo caso, cioè il sistema immunitario lotta contro lo stesso organismo che lo ospita e che lo crea. Quindi questa alterazione del sistema immunitario può provocare diverse malattie e può alterare quello che a noi interessa soprattutto anche il nostro umore. Quindi se in questo momento tu fai fatica a gestire il tuo umore, a gestire le tue emozioni, perché prima delle emozioni c'è l'umore, l'umore è una sorta di base, di pilastro che genera, che favorisce poi determinate emozioni. Se io sono di cattivo umore è molto difficile essere felice, molto più difficile se non impossibile, mentre se io sono di buon umore è molto più probabile, certo nulla è automatico, però è molto più probabile, molto più facile probabilmente. Qualcuno scrive ipotiroidismo è anche collegato a quello, infatti dal risultato che ho avuto io sono a rischio anche di ipotiroidismo e pensa te, pensa te anche di insulino resistenza che poi è quello che porta al diabete. Quindi pensa te, io che non mangio quasi mai zuccheri eppure effettivamente non è che nella mia dieta non ci sono zuccheri, a volte ho mangiato molta frutta, la frutta è ricca di zuccheri, certo ci sono anche le fibre, però se tu mangi troppa frutta, oltre misura, comunque porti zuccheri, però dall'altra parte vai a creare danni, perché se questa cosa è continua, siccome c'è un passaggio che spiego nel libro ma anche nel videocorso risorse interiore, a proposito, se ancora non avete visto i quattro video gratuiti che ancora sono gratuiti a disposizione andate su risorse-interiori.it che poi metto il link, se non è chiaro il link, nel momento in cui, perché lì spiego anche questo meccanismo, nel momento in cui tu ti abbuffi, come diceva qualcuno, questi giorni mi sto solo abbuffando, in genere ti abbuffi di cibi ricchi di fibre o ricchi di zuccheri o salati, in genere la seconda, perché? Perché quello il cervello sa già, c'è già un'aspettativa di ricompensa, sa già che lì avrai soddisfazione. Allora in un momento in cui ci sono tante insoddisfazioni, tante pressioni, tanta tensione, è ovvio che quello vince, cioè è una battaglia persa dire no, devo resistere, so di avere una tavoletta di cioccolato nel frigo, non la mangio, la mangio domani solo un quadratino. È difficile resistere a queste cose, cioè ci puoi anche riuscire se hai una forte forza di volontà, ma più che forza di volontà diventa uno sforzo di volontà. Dimmi te se non è così, anche perché se sai che hai quella cosa lì, il cervello continuerà a pensare a quella roba lì e continuerà a rilasciare dopamina. La dopamina ti stimola perché ti dice, ti fa sentire l'acquolina in bocca. È vero o non è vero che quando sai che c'hai un dolce o che ti aspetta quella pietanza che tanto desideri, già ti viene l'acquolina in bocca? Qualcuno sta scrivendo fame nervosa, sì, perché non è una fame che hai bisogno di quei micro e macronutrienti, perché di quei micro e macronutrienti che in genere sono anche solo di un certo tipo, quindi solo zucchero, solo carboidrati o solo sale, insomma, il tuo corpo non ne ha bisogno così tanto, non ha bisogno solo di quello, ok? Quindi allora uno dice come devo fare? Perché se neanche dal cibo posso avere soddisfazione, c'è un personaggio che si chiama Irene nel libro, chi ha letto lo ha conosciuto, che dice proprio sta cosa, beh neanche nel cibo posso avere soddisfazione, anche il cibo mi togliete, perché il cibo spesso viene visto come strumento psicologico, mentre non è questo, il cibo non è uno strumento psicologico, uno strumento psicologico può essere un libro, può essere uno psicologo, può essere la consulenza con qualcuno, un coach, ma non è il cibo che va a risolvere i tuoi problemi emotivi o la tua fame nervosa, penso siate d'accordo con me con questa cosa, perché magari siete d'accordo con me, perché dopo poco ti viene fame ancora, perché il picco di glicemia è molto veloce a salire, è anche molto veloce a scendere, quindi dopo un po' hai bisogno ancora di quello e questi continui sbalzi di glicemia provocano due cose che non smetterò mai di spiegare, perché nel momento in cui almeno lo sai, c'è una piccola campanella, poi è vero che i meccanismi per il cambiamento sono molto più complessi di così e questi continui sbalzi creano due effetti nocivi per il nostro corpo, se non sono abbinati a fibre o a proteine, allora questo sbalzo verso l'alto diventa uno sbalzo verso il basso, per sicurezza diventa uno sbalzo molto verso il basso, viene chiamata in gergo tecnico, se ci sono dei nutrizionisti o medici collegati mi sapranno confermare che si chiama ipoglicemia reattiva, cioè una reazione di sicurezza dell'insulina per abbassarla molto la glicemia, per abbassarla per sicurezza, metti caso tu di nuovo hai questo picco di glicemia che non può esserci il nostro corpo se no moriamo, allora viene equilibrata questa cosa abbassando molto di più la glicemia, quando l'abbassi molto di più immediatamente l'organismo ha bisogno del glucosio nelle cellule, nel cervello, nel sangue, insomma deve esserci glucosio, allora cosa fa? Lo va a pescare grazie al cortisolo che è l'ormone dello stress, quindi cosa vuol dire? Che dopo poco sei ancora più stressato di prima, se la tua fame nervosa era per calmare il nervoso, dopo poco il nervoso ritorna e quando questo ciclo continua rischi di abbassare il cortisolo, che il cortisolo non è un nemico, non è soltanto un nemico, il cortisolo fa tante cose utili, soprattutto nella prima fase dello stress, ho scritto un libro insieme a Casa Dei su questo, ma il cortisolo diventa un nemico nel momento in cui è troppo abbondante e nel momento in cui non ce n'è, perché è un esaurimento, tanti anni fa andava di moda la parola esaurimento nervoso, ditemi voi se non avete mai sentito questa parola, adesso va di moda a dire stress, qualsiasi cosa sono stressato, sempre la colpa allo stress, in realtà è che a volte noi non abbiamo neanche più l'ormone dello stress, perché abbiamo esaurito le ghiandole che lo producono, quindi per colpa di questi continui sbalzi, quindi allora questo è il primo rischio che abbiamo se non riusciamo a gestire la nostra alimentazione, quindi se c'è stress, abbiamo detto, e se c'è troppo disequilibrio nel nostro intestino, di troppi batteri alimentati di carboidrati e zuccheri, non riusciamo ad avere la serotonina o ne abbiamo in misura ridotta, è una carenza di serotonina, aumenta il rischio di depressione, aumenta il rischio di una marea di malattie, le scrivo nel libro adesso all'encarle tutte, il fatto sta che non ti permette di avere la lucidità, per usare parole più semplici ancora, che è quello di cui abbiamo bisogno adesso, per fare le scelte giuste, per non rimanere immobili, di fronte invece a scelte che dovremmo fare, perché abbiamo mille paure, mille ansie che vanno a indebolire ancora di più il nostro sistema immunitario, mentre adesso abbiamo bisogno di rinforzarci a livello immunitario, è la cosa che in attesa di un vaccino, non entro nella diatribe a fare vaccino sì, vaccino no, però in attesa di un vaccino comunque la cosa che adesso possiamo fare è rinforzare il nostro sistema immunitario, è qualcosa che è sotto la nostra responsabilità su certe azioni che possiamo fare, quindi il secondo rischio, attenzione, è quello che io paragono a quando tu fai un investimento in banca su un piano di risparmio, allora sarà capitato alle persone collegate di aver fatto almeno una volta nella loro vita un libretto postale, una cosa, un investimento in banca, non dico rischioso, ma magari un piano di accumulo, qualsiasi cosa ti porta a risparmiare, allora se tu fai questa cosa, sai bene che se li lasci un tot di tempo prendi più interesse, a qualcuno è capitato di fare così, magari parliamo la stessa lingua, sta di fatto che se tu fai un versamento in questo conto di deposito, chiamiamolo conto di deposito, e sai che più tempo non li tocchi e più ci guadagni, giusto? Ok, allora cosa vuol dire? Che se io vado a prenderli prima ci sono in certi casi le penali o comunque perdo tutto quello che è di interesse guadagnato, in certi casi perdo tutto quello che ho guadagnato e in certi casi ci sono delle penali, in certi casi ci sono tutte e due. Allora, continuare ad avere un'alimentazione che è squilibrata, quindi con questi picchi glicemici, non avere un'alimentazione equilibrata che magari è ricca di fibre, mi porta come se io andassi in banca il giorno dopo a dire guardi i mercati sono un po' a rischio, non me la sento, prendo tutto, prelevo tutto, quindi devi pagare gli interessi. Dopo un po', dopo un giorno torni e dici no dai adesso mi sa che la situazione si è tranquillizzata, li rimetto di nuovo e di nuovo li vincolo a sei mesi, ok? Dopo un giorno senti le notizie, va male una cosa, sei un po' in ansia, dici no non mi fido, mi vado a riprendere e ci sono altri interessi, altri, come si dice, altri penali che devi pagare finché alla fine, questo si chiama esaurimento surrenale, finché tu a furia di questi sbalzi che vai a prelevare, poi li rimetti, poi li ritogli, ti giochi tutto il patrimonio per le penali che hai pagato o per tutti gli interessi che stai pagando perché vai a ritirarli. Non so se è chiaro questo esempio, quindi questo è quello che succede con questi continui picchi glicemici. Allora, una strategia, poi vi saluto, per iniziare intanto, ci sono mille strategie, le potete trovare appunto confrontandovi con un nutrizionista, con un medico nutrizionista, un ghiettista, un ghietologo, insomma anche numerosi libri spiegano queste cose, io l'ho imparato la prima volta da questo libro, me l'ha detto anche il nutrizionista che mi segue e la conferma di questa strategia che vi sto per dire l'ho avuta anche dai risultati di questo test del microbiota, perché il test del microbiota mi ha evidenziato che nonostante io mangi molta verdura, molta più della maggior parte delle persone, per le conseguenze del passato di una mia alimentazione squilibrata, povera di fibre, in certi momenti della mia vita era proprio povera di fibre, io devo mangiare il 50% di fibre, quindi per iniziare già a volerti bene e a riuscire a gestire il tuo amore, non sai da dove partire? Intanto vai su risorse-interiori.it e ti scarichi questi quattro video, anzi cinque video gratuiti che ti danno già delle strategie e poi se vuoi approfondire c'è il videocorso che tra poco rimetteremo in venta. C'è il mio libro, ci sono tanti altri libri, per iniziare quando hai questa fame nervosa che qualcuno diceva, prima di cedere a questa fame atavica del dopoguerra, mangia un po' di fibre, mangia qualcosa di verdure crude, cotte, qualsiasi cosa ti piaccia che sia verdura, quindi non patate, che ti faccia frenare da una parte questa fame, perché comunque un po' ti riempie, dall'altra parte va a nutrire quei batteri buoni dell'intestino che sono anti-infiammatori, che vanno a riequilibrare il nostro sistema immunitario e vanno a favorire anche la sintesi della serotonina. Quindi non è che devi mangiare solo verdure, ma prima di cedere a questo prova a fare questa cosa semplice, il metodo che spiego nel libro è di trovare la cosa più semplice e non solo precisa e non solo che è nel contesto giusto. Cosa vuol dire? Che tu già la fai quella roba lì, quindi non è che devo fare, non è che tu devi metterti d'impegno di mangiare solo verdure, no, è che quando stai già per fare quella cosa, di mangiare zucchero, carboidrati o proteine, insomma qualsiasi cosa, ci metti, ci agganci una nuova abitudine. Questo è un modo molto meno faticoso, molto meno sbilanciato sulla forza di volontà, perché la forza di volontà è limitata, tante volte non abbiamo voglia. Allora qual è il segreto per non aver bisogno sempre dello sforzo di volontà, come lo chiamo io, è quello di crearti delle abitudini, degli automatismi. Allora un modo per creare un automatismo è questo, aggiungi, abbini, affianchi, io sto facendo su Instagram per esempio, dei video per un po' spronare le persone a fare esizio fisico e sto dicendo che tutte le volte che vado a buttare l'immondizia mi faccio il giro dell'isolato e mi viene voglia poi di fare oltre al giro dell'isolato una camminata veloce di 10, 15, 20 minuti. Come faccio? Io dico a me stesso, devo buttare l'immondizia se no qua non si respira? Quindi penso che quanti di voi buttano l'immondizia almeno una volta al giorno, due volte al giorno, insomma, chi ha la raccolta differenziata magari dice io me la vengono a ritirare, vabbè però la devi andare a mettere quando è il giorno dell'orario insomma concordato, quindi devi andare a metterla davanti alla porta. Quando esci per andare a fare questa cosa abbini questo il giro dell'isolato, ecco questa è una tecnica, quando ti viene quella fame, quando dovresti mangiare quella pietanza che solitamente magari è piena di zucchero e carboidrati ci abbini un po' di fibre, poi sarà il tuo corpo così come quando io inizio che faccio 5 minuti di ginnastica, poi mi invoglia e ne faccio 15 e ne faccio 20, così per il cibo sarà il tuo corpo a dirti quali sono le cose di cui hai bisogno e di cui ti devi nutrire, perché lo stesso sistema della dopamina funziona non solo per le cose che soddisfano il palato, ma anche per le cose che soddisfano i neurotrasmettitori e che soddisfano scusate anche i batteri, quindi sarà quei batteri a dire attraverso il nervo vago, ecco perché si chiama intestino felice, perché quando tu hai delle emozioni sia forti piacevoli, sia forti spiacevoli, è vero o non è vero che coinvolgono anche la tua pancia? Ditemi voi a chi è che non è mai capitato di sentire le famose farfalle nello stomaco, ditemi voi a chi non è mai capitato di arrabbiarsi e poi avere magari collegato, chi soprattutto è più sensibile a livello di intestino, un po' di dolore di intestino, magari va in bagno più del dovuto, perché quelle forti emozioni sono collegate dai neurotrasmettitori degli ormoni e quei neurotrasmettitori vengono generati soprattutto nel nostro intestino e l'intestino collegato, perché si dice secondo cervello come qualcuno anticipava e scriveva e lo ringrazio, perché l'intestino è collegato al cervello attraverso un nervo che si chiama nervo vago e comunica i bisogni dell'intestino attraverso questo canale preferenziale come un'autostrada, quindi è come se, non so se siete mai stati in quei ristoranti che magari hanno la cucina o sotto o sopra, che il cibo è capitato di vedere più che nelle mense forse, ti arriva attraverso questo piccolo ascensore che ti porta il cibo, ecco è come se i batteri dell'intestino o il cervello verso l'intestino comunicassero, dicessero c'è bisogno di questo e quindi poi attraverso questo ascensore gli arriva verso l'alto o verso il basso, addirittura quando c'è serotonina viene comunicato al cervello senso di sazietà, quindi se io facilito la produzione di serotonina vado anche a produrre maggior sazietà e quindi evito magari di cadere in quella fame per cui mi abbuffo oltre il dovuto. Bene, mi auguro che questi contenuti, questa strategia, questa esperienza che condivido con voi vada bene, oggi dicevo appunto ho iniziato questa dieta, non è molto diversa da come io già mangio, certo ci sono delle cose precise per abbassare l'infiammazione per cui c'è stata una riduzione forte di zuccheri e carboidrati, però non è che li ho tolti, anche perché senza zuccheri e carboidrati lo stesso non va bene e quindi insomma vi aggiornerò di come va, devo farla per un mese e la cosa bella di questa dieta che mi è piaciuto molto è che abbinata a questo c'è anche l'invito, il suggerimento a una certa regolarità negli orari, cosa che io a volte sbaglio e non faccio, nell'esercizio fisico, quindi la mattina mi viene suggerito prima di mangiare di fare esercizio fisico, è una cosa che avevo abbandonato e quindi mi fa piacere vedere quanto veramente il nostro organismo, si chiama organismo perché c'è organicità e quindi quando tu vai a voler rimediare, migliorare una situazione devi tenere conto di tutto, anche il resto e quindi di conseguenza se migliori da una parte occorre per avere un risultato veramente efficace anche migliorare l'altra parte, ecco perché a volte certe diete non funzionano, perché probabilmente non c'è l'abbinamento magari del esercizio fisico, di come costruirsi le abitudini, quindi a livello mentale e motivazionale, è tutto un insieme di cose che bisogna tenere presente che nel momento in cui c'è equilibrio su questo allora ottieni risultati e allora anche quel percorso che stai facendo magari è meno faticoso e penso che in questo momento che non c'è bisogno di ulteriore dolore e fatica, usare le strategie giuste nel modo migliore che ti fanno risparmiare dolore e fatica penso sia un valore aggiunto. Bene, vi ringrazio e vi metto di nuovo il link per chi non l'ha visto ieri sera per accedere alla pagina dove poter ricevere via mail i quattro video, insomma le anteprime, del videocorso risorse interiori. Buona serata a tutti, ricordatevi le fibre pre-pasto, pre-fame atavica del dopoguerra. Saluti ridenti!